Salve a tutti amici youtube e benvenuti in questo nuovissimo video. C'è una frase che dice che l'attesa è essa stessa un piacere e da quanto tempo, ditemi voi, attendete la recensione da parte mia delle Logitech G Pro o delle G Pro X che sono state lanciate più recentemente. Beh, dopo tantissime 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 richieste, beh, finalmente quel momento è arrivato ed eccole qui le Logitech G Pro X, l'ultima edizione di un paio di cuffie che mi avete chiesto davvero in tantissimi ovunque su Instagram, su Telegram, mi scrivete in privato Toto puoi provare G Pro X? Toto puoi provare G Pro X? Sì, finalmente sono riuscito a recuperarle, le ho provate e siamo pronti quindi a raccontare come vanno. Partiamo prima di tutto dalla confezione come di consueto. Nella confezione oltre alle cuffie c'è il microfono che è di tipo removibile, c'è il cavo, anzi tanti cavi che sono di tipo removibili e la scheda audio USB che abilita il 7.1 e consente di personalizzare il microfono realizzato in collaborazione con Blue Microphone perché Logitech ha acquisito l'azienda Blue Microphone che si occupa dei famosi microfoni che hanno utilizzato gli youtuber per anni e anni e che ancora oggi sono tra i più venduti su Amazon qualche mese fa e quindi ha portato parte di quel know-how su queste cuffie per offrire un'esperienza in chat, un'esperienza di chat vocale di altissimo livello. Non manca poi anche una pochette morbida per il trasporto e un secondo paio di padiglioni, in questo caso rivestiti però in tessuto, mentre quelli montati default sono in finta pelle che fa un po' sudare la zona intorno all'orecchio. Avrei gradito che Logitech adottasse per questo paio di cuffie un approccio simile a quello di Razer, ovvero dei padiglioni che fossero in pelle all'esterno per garantire un ottimo isolamento acustico e in tessuto all'interno per invece permettere una buona traspirabilità e lunghe sessioni di ascolto. Molto bello l'archetto in alluminio nella parte esterna, verniciato in nero ma ricorda leggermente quello di un altro paio di cuffie sotto i 100€, ovvero le HyperX Cloud Alpha. In questo caso le HyperX Cloud Alpha sono anche più leggero. Bellissimo secondo me la parte esterna dei padiglioni in alluminio con una bellissima trama al tatto e con questa frezzatura davvero particolare e bella da vedere. Un'implementazione che gradisco n volte di più rispetto all'avere delle RGB che non apportano nulla e alzano il costo in maniera ingiustificata. Bello anche l'archetto nella parte superiore con una cucitura purtroppo non al contrasto perché è gradito o un rosso oppure un bianco magari in stile Logitech in modo da rendere il design un po' più vibrante. E' bello anche la serigrafia Pro nella parte alta del padiglione, buona l'imbottitura che è piuttosto morbida così anche come quella dei padiglioni. Eccellenti le plastiche che sono di tipo opaco ma hanno una finitura soft touch, sono veramente piacevoli da toccare ma soprattutto non prendono né impronte né sporco. Quindi anche sotto il punto di vista dell'estetica a lungo tempo potete stare tranquilli che questo si tratta di un paio di cuffie molto molto durevole e anche flessibili. Ecco il mio solito test per quanto riguarda la flessibilità, devo dire che le HyperX Cloud Alpha risultano sotto questo punto di vista ancora più flessibili. Queste si vede che sono un po' rigide soprattutto per quanto riguarda il meccanismo di regolazione. Per quanto riguarda l'indossabilità i padiglioni sono di tipo over-ear e l'isolamento acustico e la forza che viene attuata dai padiglioni sulla testa è davvero ottima. Infatti già così io faccio un po' fatica, sento la mia voce un po' vattata, se ascoltassi la musica in questo momento non mi sentirei quasi e sarei costretto quasi ad urlare. Per quanto riguarda poi la trasportabilità, le cuffie possono essere usate con qualsiasi console. Quindi che abbiate un PC, un APS4, vogliate usarlo con Nintendo Switch oppure con il cellulare oppure con l'Xbox One potete farlo senza problemi. Sul cavo è inoltre integrato un telecomandino con tanto di clip che permette di attivare o disattivare il microfono ma anche di regolare il volume di sistema quando usate però la scheda audio inclusa, ovvero questo piccolo accrocchio di tipo USB incluso nella confezione. Passiamo proprio all'audio, parte fondamentale di un paio di cuffie che per il resto soddisfano in pieno, l'audio c'è già qualche criticità. Questo perché? Perché per quanto riguarda la riproduzione in stereo, Logitech i driver da 50 mm offrono davvero un altissimo livello qualitativo. Tutte le frequenze sono ben distinte e soprattutto tramite software di Logitech, ovvero Logitech G Hub che è scaricabile direttamente dal sito del produttore. Potete andare a personalizzare le frequenze non solo con tanti preset ma anche andando a customizzare finemente tutte le frequenze. La cosa bella di questi driver è che permettono davvero di cucirsi addosso la riproduzione audio e quindi di avere qualcosa che veramente soddisfa i nostri gusti. Una cosa che non è scontata su tutte le cuffie di questo tipo. Per quanto riguarda invece la riproduzione con audio 7.1 che offre questa scheda USB siamo ai livelli del G432, ovvero le prodigi, le cuffie della linea prodigi. Ovvero non è assolutamente all'altezza del prezzo che viene richiesto. Il 7.1 risulta infatti confuso, nonostante i vari preset e la possibilità di personalizzarlo e di calibrarlo, non riesce mai a dare quell'effetto che per esempio, pur con le criticità, riesce a dare Razer oppure riescono ad andare alcune cuffie di Asus. O hanno dato anche le Turtle Beach Cloud Atlas, se così si chiamavano. Non è un audio soddisfacente, quindi se state cercando un paio di cuffie solamente per i 7.1 è meglio propendere per altri modelli. Se state invece cercando un paio di cuffie che permetta veramente un'elevatissima personalizzazione per quanto riguarda l'audio stereo, beh allora optate senza problemi per queste cuffie qui. In stereo anche i giochi risultano ben giocabili e soprattutto avete una buona percezione della distanza di dove si trova il nemico a destra o a sinistra, quindi riuscite a orientarvi in maniera ottimale, così come anche nei giochi di guida riuscite benissimo a sentire se il vostro avversario sta cercando di bucarvi a destra oppure a sinistra e quindi ad agire in maniera tempestiva per evitare il sorpasso. Poi per quanto riguarda l'ascolto musicale e video, beh davvero tanta roba e soprattutto buono anche il comfort perché l'orecchio viene ospitato in maniera ottimale. L'unica cosa è che se io per esempio premo in questo modo l'orecchio va a toccare la parte interna del padiglione e questo significa che chi ha le orecchie un po' più ripiegate o un po' più grandi potrebbe avere qualche fastidio. Nessun problema invece per chi indossa gli occhiali perché i padiglioni sono appunto sagomati e molto morbidi e non creano un'eccessiva pressione quindi le astine non daranno fastidio. Passiamo poi al microfono che è un'altra parte molto interessante di queste cuffie perché ho detto purtroppo il microfono ha qualche criticità all'inizio del video. Perché mi sarei aspettato dopo l'acquisizione di Blue Microphone non solo un'implementazione software del know-how di Blue Microphone ma anche un'implementazione hardware. Mi sarei aspettato di fatti che il microfono avesse magari una grigliettina con la scritta blu, fosse un po' più brandizzato, fosse appunto qualcosa di riconoscibile. Invece già dal design sembra molto simile rispetto a quello delle G Pro di prima generazione e la suite di Blue è stata implementata solamente tramite software. Questo significa che se voi avete questo cosino qua e ci collegate tramite il jack aux 3,5 mm, una qualsiasi altra cuffia stereo potete comunque soffrire della suite di Blue. Anche se ho notato che il miglior risultato lo si ottiene solamente con le G Pro X quindi probabilmente c'è un microchip all'interno che dice alla scheda audio di Logitech guarda che è questa la combinazione corretta e quindi permette di trarre veramente il meglio. La suite software è davvero molto completa a tratti e anche complicate in quanto ci sono determinate impostazioni che prima di toccare è bene comunque studiare per bene e capire quale sia il loro reale effetto per quanto riguarda la riproduzione vocale e la registrazione della vostra voce. È quasi complicato, è quasi a livello di uno studio che registra podcast, che registra la voce e quindi forse un po' eccessivo per quanto riguarda il lato gaming. Proprio per questo avrei preferito una minore implementazione del lato software e una traduzione migliore per quanto riguarda la parte hardware. Purtroppo però questa cosa non c'è e per quanto sia completo è affascinante esplorare la parte audio relativa al microfono e per quanto questa renda bene poi la cattura della vostra voce con alcune preimpostazioni come il voice clarifier che permette di attuare un miglioramento deciso, netto, che si udisce per bene della vostra voce ma anche per esempio il sight tone che può essere regolato per il volume, può essere regolata l'intensità e quindi che vi permette di sentire il ritorno della vostra voce direttamente in cuffia per evitare di urlare mentre parlate con i vostri amici. Beh dall'altro lato capisco che se non avete mai gestito una registrazione audio tutto quell'ambaradano di impostazioni potrebbe risultare complicato. Detto questo vi lascio una breve registrazione direttamente col microfono così mi fate sapere voi nei commenti cosa ne pensate di questo microfono, di queste cuffie. Bene ragazzi eccoci qua, questo è il programma Logitech G Hub e questa qua è l'interfaccia attraverso cui possiamo andare a definire e andare a controllare tutte le impostazioni di questo microfono. Questa è la voce senza alcuna post produzione quindi non c'è né riduzione del rumore se non quelle adesso di default. Se voi collegate le cuffie e aprite il programma avete questa voce qui. Adesso però vi voglio far vedere come varia la voce se io vado a per esempio disabilitare il miglioramento della voce Blue Voice. Adesso l'ho disattivato, sono scomparsi come potete aver visto dal display tutte le impostazioni relative appunto all'equalizzazione, al filtro passa alto e a tanto altro e questa è la mia voce. Se vado di nuovo ad attivare ecco come va a cambiare il timbro della voce. Da quello che dovreste poter sentire si tratta di un timbro un po' più ricco, un po' più profondo e bilanciato. Ci sono poi tante impostazioni tra cui appunto la riduzione del rumore, l'expander, il limitatore per limitare il picco massimo, il compressore e il DSR che va ad agire appunto su tutte quelle pronunce tipo S, F, P, quando fanno prova, 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 sassa, prova, prova, appunto quelli sono i suoni su cui il DSR va ad agire. E in più si possono andare a regolare appunto anche l'equalizzazione sia per le frequenze basse, medie e alte. Fatemi sapere però cosa ne pensate voi qui sotto nei commenti. Arriviamo infine alle conclusioni. Beh, per quanto riguarda l'ergonomie assolutamente promossa. Avrei gradito qualche grammo in meno ma sono veramente finezze. Se indossate queste e indossate Cloud Alpha non riuscirete a percepire la differenza. Tranne che per il fatto che le Cloud Alpha hanno un maggiore spazio interno e quindi la parte esterna dell'orecchio, soprattutto se ce l'avete moderatamente grandi, resta più comoda. Per quanto riguarda poi i materiali e l'assemblaggio davvero eccellenti, mi sono piaciuti davvero tanto. Ottimo il fatto che non abbiamo nessun LED RGB che adesso impazza anche nelle cuffie di fascia bassa. Ottimo anche il prezzo che si attesta all'incirca sui 100€. Mi pare che il più basso sia stato intorno ai 90€. Adesso su Amazon si trovano intorno ai 100€ ma vi lascio il link qui sotto in descrizione in modo da verificare eventuali offerte. Allora per chi sono queste cuffie? Sicuramente per chi vuole un audio certosino la possibilità di personalizzare qualsiasi aspetto non solo della riproduzione audio ma anche della registrazione della propria voce ed essere sicuro di avere un'ottima qualità a 360 gradi. Tuttavia la scheda audio inclusa non è consigliata a mio parere per chi desidera una riproduzione 7.1 Dolby di un determinato livello. Se volete quello optate sicuramente per altre cuffie. Se invece volete un paio di cuffie ben costruito, comodo, con un eccellente microfono allora le G Pro X risultano sicuramente una validissima scelta soprattutto se le volete utilizzare non solo su PC ma anche su altri dispositivi. Grazie anche a tutto l'ambaradan di cavi. Anche su PS4 hanno un ottimo volume se usate la scheda audio. Per quanto riguarda invece chi vuole, chi ha già una buona scheda audio e vuole qualcosa di un po' più fine e un po' più leggero, beh le Cloud Alpha secondo me rimangono ancora una delle proposte migliori al di sotto ai 100€. Soprattutto riuscite a trovarle durante i grossi periodi di promozione anche 64-70€. Quindi davvero un ottimo rapporto qualità-presso. L'unico difetto del Cloud Alpha è che essendo solamente con jack aux a 3,5 mm, quindi essendo solamente stereo, su PS4 soffrono di un audio un po' basso. Quindi insomma ci sono da valutare un po' di aspetti. Logitech con questa G Pro X ha fatto sicuramente un ottimo lavoro. Ci sono alcuni aspetti su cui secondo me si poteva osare un po' di più. Vi suggerisco di aspettare un leggero calo di prezzo, poi se vi piacciono e siete attratti da questo headset, beh allora puntatelo e acquistatelo. Non ne rimarrete sicuramente delusi, ma poi fatemi sapere cosa ne pensate qui sotto nei commenti. Se questo video vi fosse piaciuto lasciate un bel mi piace e finalmente ce l'abbiamo fatta a recensire queste benedette G Pro X. Noi ci vediamo come al solito al prossimo video. Iscrivetevi al canale se ancora non l'aveste fatto. Ciao! Ciao!